Musica Uppare Pia, in un'perifedio ma non qualche altro più finisce Chiedi ma sempre diciamo La perifedio del passo sono molto il proprio nel cavolo qui nella contyanda la mia scuola dov'è faccio un favore questo video volevo fare Io sono un po' dispiace per fare i miei auguri, ma un po' risposta che non è quello che è morto nel Napoli, ma è l'appaccante, il bomber del Chieti, come quando mi viene dal Chieti, ma stavo girando un po' le mie pozzine, perché questo è proprio la presenza del Chieti per me, questo. Questo è il primo punto, andrà a prestare, andrà a prestare, andrà a prestare la stagione, diventando ovviamente il capofamiglia del Chieti, e il terzo del prossimo che è rimasto sotto del CDD, e del girone F del Chieti. Una squadra che sta andando di male in peggio, dalla Rega Pro, che una volta arrivavamo a CDC, dalla CDC1 alla CDC2, andranno per andare in Binoffa, se c'era qualche sogno, ne fonderanno in C1, e nemmeno di Guagliarella, andranno in C2, ma poi, non è vero. Se l'è dito, quindi non si sento appunto, non abbiamo fatto né play, e ovviamente proprio, abbiamo play, nel senso che abbiamo giocato, ma proprio, mi schifo, quindi, sto sempre a parlare, e ora che me voglio aumentare. Non me voglio aumentare assolutamente niente, c'è veramente poco da dire, complimenti a questo giocatore che, ho fatto vedere che lui è un giocatore da Serie B, non è da, da, da D, che andrà, che non è F, che andrà a Pescara, che è una città, che io non dico da adesso, ma c'è una grande rivalità per chi di Pescara, più di quanta c'è ne fa in tua Juve, devo ammettere, quindi, andranno i miei più coreori per questo giocatore, che si trovi bene in quella città, in quella squadra, che posso fare grandi cose, che posso magari un giorno andare in Serie A, non col Pescara, vi prego, facciamoci vedere la bellina. Auguri a Vittorio, se questo video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un bel mi piace, commentate, condividete questo video se vi va, iscrivetevi al canale, se non lo avete ovviamente già fatto, se ne avete in tenere la descrizione, like alla pagina di Facebook, auguri a Vittorio e ciao ragazzi!